Finalmente siamo arrivati alla vigilia di un evento importantissimo per la città di Firenze e per tutta la Toscana che è la War League 2012 con una formula diversa, praticamente quattro squadre che si incontrano in un'unica soluzione con l'Italia che dopo il brillante successo ottenuto alla qualificazione del pass per le Olimpiadi affronta tre formazioni di rango come la Corea, gli Stati Uniti e la Francia. Sono molto contento e orgoglioso della riuscita della manifestazione in quanto a oggi abbiamo tutto esaurito per le giornate di domenica e ancora per gli appassionati che vogliono vedere l'Italia, unica tappa in Italia quest'anno prima delle Olimpiadi possono venire, perché ancora c'è qualche disponibilità di biglietti di posto nella giornata di venerdì. Vi aspettiamo numerosi sperando che lo spettacolo sia all'altezza delle aspettative.